Dall'urna di Niona è stata appena estratta la Juventus, che attende di capire contro chi dovrà giocare nei quarti di finale. Le telecamere indugiano su Francesco Totti, che si volta verso il vicino di posto e sussurra, Real, Real. E infatti Shevchenko estrae proprio la pallina contenente il nome del Real Madrid. Riedizione dell'ultima finale del torneo a Cardiff mostra descrizione mostra meno.